Sono Nathalie Hambro, una panamitanina di molto, molto anni, circa due anni. Non mi piace candele, no, no. Differente tipo di illuminazione, al tetto, al soffitto, al lato, differente. Parlementare, l'aperitivo, una cena con un buffet. Mi piace l'informalità. Buon paio a Palermo si trova a Panificio Guccio. Sono famosa per l'inaspettante. L'oggetto che mi piace molto è questa base dell'artista Gaetano Pesce, fatta di melezina. Mi piace con fiori e rami. La mia ossessione alla casa, i colori. Grazie dell'olio che porti la WG a Palermo.